Ciao, sono Andrea di Langa Studios, di nuovo qui per parlarvi di un nostro piano social, questa volta di un ristorante delle Lang che vi vado a raccontare. Non sempre l'obiettivo principale di un piano social è far conoscere la pagina. A volte l'attenzione si può concentrare su alto. In questo caso abbiamo gestito i canali social di un cliente, uno chef conosciuto a livello nazionale e non solo. La pagina era già seguita prima del nostro arrivo da un buon numero di pubblico, ma c'erano poche visualizzazioni e interazioni con i vari post. Con il team dei social media manager abbiamo agito tramite tecniche di sponsorizzazione organica, quindi strategie di condivisione dei post, iscrizione a gruppi specifici, determinazione di un target. Il tutto ha fatto sì che ad oggi la pagina è in media dalle 2000 alle 5000 views per post. Facendo contenuti regolari e ben studiati, la pagina riesce a raggiungere numeri proporzionati comunque alla fama del cliente. A questo poi va aggiunto lo stile che abbiamo voluto imprimere alla lavorazione, ecco, come potete vedere appunto dallo schermo. Come per ogni nostro piano di gestione social, prima di iniziare con pubblicazioni a valanga fatte solo per far contenuti, il nostro studio sviluppa per il cliente un asset grafico ad hoc, al fine di presentarlo sui social con la veste più adatta. In questo caso, lavorando in sinergia con il reparto web, abbiamo usato questi elementi dorati riprendendoli proprio dal sito del cliente, creando così una continuità con la web identity che stava venendo costruita. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!